Lutto nel comune di Ostra per la morte della cantante Sonia Tallevi, conosciuta come Sonia Levi. Si è spenta all'età di 58 anni dopo aver lottato per tanto tempo contro un grave male. Durante la sua carriera, oltre a esibirsi in vari locali, ha partecipato a vari concorsi e ha cantato anche in alcuni programmi televisivi, arrivando per due volte in finale al Festival di Castrocaro su Rai 1. Ha collaborato con Ivan Graziani, Enzo Iacchetti, Barbara Cole, Michele, Pecora. Ha partecipato anche a varie sfilate di moda come indossatrice.